Fuori dubbio che Fabio Maestro in questa prima parte di campionato è una delle poche note liete di questo Pescara. Soddisfatto almeno a livello personale di questo avvio di campionato? Sì, a livello personale sono molto contento, comunque ho fatto tre partite e due gol, quindi diciamo è un inizio che per me è importante. Speriamo di farne altri, dai! Inizio positivo per te a livello personale, molto negativo per la squadra, un punto in cinque partite, è già suonato il primo campanello d'allarme, è inutile girarci attorno. Sì, c'è qualcosa che non va, si vede credo agli occhi di tutti, però comunque noi non ci buttiamo giù perché il campionato è lunghissimo e ci sta che ci sia stata qualche, diciamo che non ci siamo capiti tra di noi cosa volevamo. Quindi piano piano lavoriamo, testa bassa e speriamo di riprenderci il prima possibile, dai! Pochi giorni fa c'è stato anche un incontro faccia a faccia nello spogliatoio con l'allenatore, insomma quali sono secondo te e secondo voi i problemi di questa squadra fisici, psicologici? Abbiamo parlato insomma di che problemi ci sono, che problemi non ci sono, solite cose da spogliatoio, insomma ci siamo chiariti su quello che vogliamo, gli obiettivi e vediamo di mantenere la parola adatta anche al mister. Tra poco la parola tornerà al campo, ci sarà lunedì questo posticipo in casa del Lecce, un'altra partita sulla carta quasi proibitiva? Beh io credo sia una bellissima partita, andare a Lecce e fare risultato credo sia una cosa importante, già dare una risposta positiva insomma ai tifosi e alla società, quindi speriamo di arrivarci il meglio possibile. Io ho avuto un acciacco insomma contro l'Empoli e la Caviglia, avevo un po' di edema, ora l'ho recuperata tutta quindi mi sto allenando, ma ho voluto fare ancora un po' il allenamento a parte insomma per farmi riprendere al 100%, ora sto bene quindi credo di arrivare in perfetta condizione. Oddo spesso ha mandato in campo la squadra con il 4-3-2-1, è questo il modulo in cui ti trovi meglio, preferiresti giocare in un'altra posizione con un altro modulo? No, come ho detto nella scorsa intervista che ho fatto nella partita contro l'Empoli, che mi avevano chiesto qual era la mia posizione preferita, non ne ho una preferita, il mister mi mette sempre dove sa che posso far bene, dove posso dare alla squadra qualche iniziativa, io ho trequartista, mezzalia, esterno, comunque credo che posso farli tutti quanti, perché comunque ho sempre fatto bene, a Salerno ho giocato mezzalia quasi tutto il campionato, poi mi ha messo il mister trequarti, ho fatto anche qualche golletto, quindi alla fine mi trovo bene in tutte le parti.